ragazzi iscrizione al canale gratis e campanellina ci conto arriviamo ad 8000 iscrivetevi al canale fate iscrivere i vostri amici al canale qui è tutto gratis non ci sono bollette da pagare a proposito delle bollette di tonale poi facciamo un video anche su tonale intanto vi finisce sempre tutto a tarallucci e vino c'è poco da fare l'inter di zang zang invece di dire zang bisogna dire governo cinese perché zang non conta più nulla di certo zang non conta più nulla da maggio del 2021 già da prima di dare impegno le vuote ad alibaba perché questo mi hanno chiesto di farlo questo video e lo faccio quindi le vuote ad alibaba le hanno date a dicembre 2020 ok quindi a parte il giornalista cinese su twitter che da suning fallita sotto di 100 miliardi 100 miliardi sono di yen ovviamente non sono di euro ed è quello un giornalista cinese che scrive in cinese che scrive su suning e dice che suning è fallita non lo dico io lo diceva il giornalista cinese che tra l'altro scusate che tra l'altro quel giornalista cinese abita in america l'altro giorno su twitter ha fatto scalpore questa cosa è un giornalista che ha 100 mila followers non è uno che si è inventato insider quindi dalla prima pandemia diciannove venti suning è crollata dalla prima pandemia diciannove venti suning è cro la ta noi siamo come inter siamo in mano al governo cinese non al zani ma poi non lo so dove è il cinese è inutile tutte le volte continuate giuse dove io non l'ho messo da nessuna parte il cinese ma facciamo una battuta perché la situazione lei lei drammatica ma ora vengo a cose che ho detto già e che abbiamo detto già mesi fa il problema dell'inter ovviamente quale l'è il problema dell'inter è il debito ma sono soprattutto gli impegni finanziari che Zhang barra governo cinese hanno fatto comincia a capire che siamo in mano alla Cina non a Zhang Zhang non conta più nulla da due anni l'hanno messo lì a fare la figurina lo vuoi capire o no non decide più nulla è il governo cinese che conta non è Zhang che Zhang con il governo cinese hanno rinviato perdite per quattrocento venti milioni grazie al mille proroghe tutte perdite rinviate e sono quattrocento venti milioni e metà di queste perdite visto che c'erano cinque anni per pagarle sono a scadenza triennale mancano tre anni non ne mancano più cinque perché due sono passati mi sono spiegato quindi ci sono le perdite poi fra tre anni scade il bond quindi fra due anni e mezzo scadano le perdite tra tre anni che sono quattrocento venti milioni poi scade il bond fra tre anni da quattrocento quindici milioni e poi c'è la ciliegina e tra sei mesi scade il prestito adottri che sono trecento ottanta milioni allora mi tocca rifare la stessa domanda di quando la gente dice di finanzia ristruttura in bianca camerina sua mi tocca di dire sempre mi tocca di dire sempre devo stare calmo perché mi arrabbio su questo giusto stai calmo va bene non lo so dove è il cinese ma so una cosa chi cazzo fa fronte a queste perdite te le ho elencate in arco temporale ora te le rielenco in cifre quattrocento vinti milioni di perdite rinviate ci sono tre anni ci sono tre anni per pagarli perché due sono già passati trecento ottanta milioni optri tra sei mesi e quattrocento quindici milioni di bond sono un milione e due di debiti forse di più chi cazzo fa fronte a questi a questi debiti zang o il governo cinese la vogliamo farne la finita la vogliamo far finita di sparare le azzate la vogliamo far finita è una roba noiosissima perché sono cose che abbiamo detto da mesi mesi e mesi io voglio sapere chi farà fronte a queste a queste spese 420 milioni di perdite da pagare entro due anni e mezzo otti tra sei mesi tra 80 e 4 e 15 il bond quindi zang rimane di finanza deve tirare fuori un miliardo da qui a tre anni ma di cosa cazzo ragioni ma di cosa cazzo ragioni le domande da fare visto che lui non vuole domande perché qui è tutto gestito sotto regime lo vedi che è tutto gestito sotto regime ti serve un disegnino ragazzi non parlo a voi parlo ai detrattori ti serve un disegnino per capire che l'inter è gestita sotto regime ti serve un disegnino te lo fai un disegnino di come hai gestita l'intesi nessuna domanda non meno per te io vengo lì e registro alcun discorso se mi va oppure se non mi va ma le domande da fargli erano come intendi pagare il prestito presidente anche agli azionisti ma le domande da fargli erano qui parliamo anche un attimino della comunicazione dei media dei giornalisti le domande da fargli erano presidente ma la situazione dell'inter a livello finanziale lo sa tutto il mondo che è che è distrutta una situazione orrenda che non può più stare in piedi quali sono le strategie per riportare il club in condizioni normali presidente quali sono le strategie che strategie ha lei per risollevare il club domanda numero uno domanda numero due quali sono i programmi di investimento presidente qui si sta parlando lato comunicazione lato giornalisti non gli verranno fatte queste domande non gli verranno fatte ovviamente queste domande hai capito siamo gestiti sotto regime e io te lo ripeto con tutto il rispetto della Cina a me della Cina non me ne frega nulla io sono italiano pago le tasse in Italia a me del loro modus operandi non me ne frega un cazzo hai capito o no basta dire Zhang Zhang non comanda più nulla non decide nemmeno il colore delle penne ormai è il governo cinese che si è infilato nell'Inter non Zhang per quello che riguarda lo sponsor di questo canale otto mesi fa ben otto mesi fa e sottolineo ben otto mesi fa è stato fatto il nome di Qatar Ai Ruiz attenzione non era stato fatto né in televisione né sui giornali e qui va dato atto ad Alessandro che fece il nome di Qatar Ai Ruiz Qatar Ai Ruiz te l'ho detto due mesi fa un mese fa quando rivenne fuori un milione ci hanno offerto un caffè per ora ci siamo anche noi ragazzi un milione loro puntano a fare il main sponsor con cifre che arrivano fino a 45 milioni non ti dico dal primo anno ma a crescere fino a 45 milioni questo canale qui te l'ha detto Qatar Ai Ruiz Paramount molto probabilmente ci volerà dalla parte dietro non andrà nemmeno via Paramount Qatar Ai Ruiz ragazzi ormai Zanger è l'incubo di tutti i tifosi dell'Inter anche dopo le vittorie sento parlare speriamo quando se ne va prima solo quando si perdeva ora quando si perde speriamo si tolga dai coglioni non lo posso più vedere siamo tutti sulla stessa barca bisogna solo aspettare ma chi pensa che lui faccia un discorso da dimesso o che dia ragazzi sono in difficoltà scordatevelo quello ti fa i discorsi in raddoppio ripartiremo dai più forti come ti ha detto dopo la final di Champions e poi si vende tre giocatori in cassa 100 ne spende 20 lui farà ancora così ti proietta messi sui domo sono fatti così Inter governo cinese non Interzani e speriamo che finisca stasera questa storia perché ci siamo rotti i coglioni ciao Inter perché scusa l'ultima cosa l'Inter deve tornare ad avere un progetto qui non c'è nessun progetto qui c'è solo la sopravvivenza indipendentemente dai risultati bisogna guardare un po' al di là dei risultati ciao Inter grazie a tutti